HSBC progetta ritagliare 35.000 posti di lavoro e 100 miliardi di dollari in asset nel corso dei prossimi tre anni. La più grande banca europea ridimensionerà soprattutto le operazioni negli Stati Uniti, nell'Europa continentale e nella propria banca di investimenti dopo aver registrato un callo del 53% sull'utile netto del 2019 che si è attestato a 5.97 miliardi di dollari. L'amministratore delegato del gruppo dice sappiamo che abbiamo alcune sfide davanti, stiamo prendendo delle decisioni che si riferiscono a parti del business che stanno offrendo performance inferiori alle aspettative, vogliamo ridistribuire il capitale in modo da rilanciare la crescita. Per questo stiamo riducendo il costo base dell'HSBC ma è una proposta con l'obiettivo della crescita. Per fare questo HSBC realizzerà investimenti nelle attività in Asia e Medio Oriente, un atteggiamento che alcuni considerano non essente da rischi visto l'epidemia di coronavirus, le cui ricadute economiche ancora non si conoscono appieno. Con l'obiettivo di semplificare la propria struttura, il gruppo combinerà le divisioni retail e management salute con il global private banking. La banca, che conta ora 235.000 dipendenti, si aspetta di incorrere in spese di ristrutturazione da 7.2 miliardi di dollari. Già l'anno scorso erano state licenziate circa 5.000 persone.